Musica Ecco il presidente Hugo Rossi che in settimana è entrato a far parte del Trust dell'Aquila, l'associazione dei tifosi Valdirossi nell'agolino, ancora la tripla ed è la terza consecutiva Mannaggia ancora Blizzard Fai in contropiede e affaccia il pallone del canestro 5 punti consecutivi di Toto Corrai E guarda lo spirito della squadra ora, si può volare in contropiede E non trisce per DJ Yender, è il pubblico che salta tutto in piedi Inferno in via Fercina, inferno sulle tribune Si va dalla prima opzione di Trento, BJ Yender, spalla a canestro L'uno contro uno, fuori il fallo di BJ E siamo sopra Attenzione, Blizzard salta P DJ Yender e mette la tripla del pareggio 4 secondi dalla fine di nuovo time out 4, 3, 2, 1 E abbiamo vinto! A usle cosa dalla fine Il canestro di Davide Pascolo Col palacreto che è pronto! Mamma mia! Grazie a tutti! Grazie a tutti!